Benvenuti alla meditazione sulla salute. Io sono Katia, iniziamo subito la meditazione. Prendete una posizione comoda, gambe incrociate, schiena dritta, ma i muscoli devono essere rilassati. Oppure seduti su una sedia con i piedi senza scarpe, schiena dritta e muscoli rilassati. Ora rilassati, chiudi gli occhi e porta l'attenzione al respiro. Osserva il respiro entrare e uscire dalle tue narici. L'aria fresca e pulita entra e l'aria calda e le tossine escono dal tuo corpo. Continua a respirare in questo modo. Respiro dopo respiro, il corpo si rilassa. Adesso fai dei respiri più profondi e lenti. Ad ogni respiro il corpo si rilassa, si ammorbidisce. Ora osserva il tuo respiro naturale, non modificarlo. Concentrati sulle narici e osserva il tuo respiro naturale da lì. Adesso appoggia le mani alla terra perché è seduto a gambe incrociate sul pavimento. Che è seduto sulla sedia può lasciare le mani a penzoloni lungo i fianchi. Ringrazia Madre Terra. Ognuno ripete i propri ringraziamenti mentalmente. Ora, porta le mani sopra le ginocchia. con i palmi rivolti verso l'alto, ascolta le tue mani. Lascia andare le aspettative, le sensazioni, i pensieri. Cerca di renderti vuoto. Lascia andare tutto e renditi vuoto. Se ci sono ancora dei pensieri, vedi li scorrere come se di uno schermo al cinema. Lascia li scorrere via e riporta l'attenzione al tuo respiro lento e profondo. Ora, visualizza e immagina Madre Terra davanti a te. Connettiti con essa. Vedi tutto il globo terrestre davanti a te. Allunga le braccia e porta le mani aperte in avanti. Visualizza il globo terrestre al di là delle tue mani. Immagina un raggio di luce del colore verde e blu. Immagina questa energia uscire dal tuo cuore. Attraverso le tue braccia, uscire dalle tue mani. Inondare tutta la terra intera davanti ai tuoi occhi. Continua ad inviare e inondare. Senti l'amore che si spigiona dal tuo cuore verso la Madre Terra. Ora, visualizza vari paesaggi del globo terrestre. Visualizza pradi ricogliosi, animali felici e liberi in armonia con gli esseri umani. Visualizza il mare, l'acqua limpida, piena di pesci. Visualizza laghi con acqua pura, pesci e natura ricogliosa, aria pulita, pura. Visualizza montagne innevate con ghiacciai perenni. Visualizza il polo nord con ghiacciai enormi, intatti, puri. Visualizza colline ricogliose, alberi draffrutto, alberi in fiore. Visualizza montagne e piedi di alberi. Immagina l'aria pulita, ruscelli e fiumi limpidi con acqua pulita, pura. Immagina di bere quest'acqua pura con le tue mani. Visualizza e immagina le città pulite, l'area di queste città pulita. I parchi delle città rigogliose e puliti immagina più verde e più natura nelle città. Ora inizia a vedere tutte le persone, di tutte le razze, in questi paesaggi visualizzati prima. Inizia a vedere queste persone sane e felici, che si muovono piano e pieni di gioia, di salute. Vedi le in forma. Vedi i nonni che giocano con i bambini, felici. Vedi le persone in tutte le aree del mondo, di tutte le razze, in salute, in forma e felici. Vedi questi nonnetti in forma, i nonni che sono la saggezza del mondo. Vedi tutto questo in armonia, tutte le razze in armonia, in salute. Ora focalizzati sul tuo cuore. E inizia a respirare da lì. Respira dal tuo cuore. Immagina di assorbire energia dall'estremità della tua testa. Inspirando ed espirando proietta questa energia di colore verde e blu verso le persone che hai visualizzato poco fa. Se non vedi il colore, basta l'intenzione. Inspira energia dalla tua testa e la proietti attraverso il tuo cuore, le tue mani. L'energia di guarigione che stai assorbendo viene donata all'umanità intera e inonda tutte le persone, tutte le razze. Tutti vibrano di nuova energia di salute. Tutto il mondo è in armonia. Continua a inondare, a emanare questa energia di amore. Adesso lascia che questa energia inondi anche te stesso. Lasciati avvolgere da questa energia. E adesso proietta questa energia a tutte le persone a te care, a tutte le persone che ami. e proietta questa energia in particolar modo a una persona che secondo te necessita in questo momento di aiuto. Inondala con questa energia verde e blu. Rimani qualche istante ancora e poi portati sul respiro. Osserva l'aria fresca che entra e l'aria calda che esce. Ascolta il corpo. Ascolta il punto di contatto del tuo corpo con il suolo. Senti la colonna vertebrale. Senti i vestiti che sfiorano la pelle. E lentamente apri gli occhi e se vuoi puoi accarezzarti il volto. Grazie. Namaste e Shanti a tutti.